Sono 11 appuntamenti, 11 spettacoli proposte e tra queste abbiamo naturalmente un'offerta piuttosto articolata. Andiamo dalla riproposizione di spettacoli già allestiti negli anni precedenti, sia in lingua italiana che in commedie dialettali pesaresi, ma abbiamo anche una ricca offerta di nuove proposte. Sono debutti, ne sono previsti addirittura 5 nell'arco di tutta la stagione che va da novembre fino a metà aprile, quindi copre tutto l'arco dell'inverno. Tra queste produzioni segnaliamo alcuni titoli abbastanza significativi, ci sono diciamo commedie in dialetto pesarese, ci sono anche due nuovi, due spettacoli in lingua napoletana, perché insomma da qualche anno abbiamo anche questo tipo di teatro e lo spettacolo che apre la stagione il 12 di novembre è proprio uno spettacolo in lingua napoletana, il titolo spero di pronunciarlo correttamente Che sa da fa per campà di Domenico Canzano e Massimo Canzano che sono gli autori, la regia è dello stesso Domenico Canzano. Undici appuntamenti ma poi c'è neanche un dodicesimo. Sì, c'è in verità un fuori programma che peraltro sarà subito dopo il fine settimana di inizio quando debutteremo, andrà in scena uno spettacolo dal titolo Il gioco più bello del mondo che è un adattamento di Valentina Luca per la regia di Bisser Genga ed è tratto dal romanzo polifonico L'ultima vita di Paolo Pagnini. Essendo una stagione così lunga e con tanti spettacoli in cartellone naturalmente abbiamo anche un numero di soci coinvolti in questa manifestazione che per noi è assolutamente rilevante parliamo di circa una sessantina, almeno una sessantina di persone tra attori, attrici, registi, tecnici poi tutti i soci che poi contemporaneamente si occupano anche dei servizi perché in piccola ribalta siamo autonomi sotto tutti i punti di vista e quindi l'organizzazione prevede anche presidio di botteghino, servizio di maschere e quant'altro insomma uno sforzo a nostro avviso abbastanza imponente per una piccola associazione.